Ora che il lampeggio sta riprendendo, vero? Si Alla non mi aveva preso prima Ciao, ciao Noi andiamo in giro così, eh? Con le scarpe nuove, farle vedere le scarpe Fai vedere le scarpe Bene Ciao, ciao Ciao, ciao Andiamo in giro, mano nella mano Non alzi mano nel dito E la posso anche lasciare Vieni Hai visto?